Domanda da Alberto Giacometti. Allora, perché continui a scolpire? Io non credo per realizzare belle pitture o belle sculture. L'arte è solo un mezzo per vedere. Qualsiasi cosa guardi, tutto mi supera e mi sorprende e non so più esattamente ciò che vedo. È troppo complesso. Devo allora cercare di copiare, per rendermi conto almeno in parte, di ciò che vedo. È come se la realtà fosse continuamente dietro le tende che strappiamo. Ce n'è ancora un'altra, sempre un'altra. Ma ho l'impressione o l'illusione di fare dei progressi ogni giorno. E questo a farmi andare avanti, come se dovessi proprio riuscire a cogliere il nucleo della vita. E si continua pur sapendo che più ci si avvicina alla realtà, più a sé si allontana. È una ricerca senza fine. Ogni volta che lavoro, sono pronto a distruggere senza esitare un attimo ciò che ho fatto il giorno prima. Perché ogni giorno ho l'impressione di vedere più lontano.